Oggi comincia la nuova campagna della nostra testata, la TGR, si chiama Italia 2.0. Per tutta la settimana vi racconteremo attraverso i nostri servizi, insieme alle altre redazioni regionali, il paese dell'innovazione, un paese che sta entrando a grandi passi nel futuro. E la dimostrazione e anche la sperimentazione che vedrete, che è in corso al centro, protesi INAIL, immagini che lasciano davvero a bocca aperta. In servizio di Salvatore Sabatino. Si chiama Soft End, una mano robotica capace di riprodurre praticamente i principali movimenti naturali di una mano. Un prototipo in fase di sviluppo per far sì che nel giro di qualche anno si arrivi ad una vera e propria protesi robotica. Un progetto pubblico e tutto made in Italy che vede la sinergia tra Istituto Italiano di Tecnologia e Centro Protesi INAIL. Ed è qui che si sta effettuandone che parte dai pazienti. Noi non siamo partiti a progettare, siamo partiti dai pazienti. Per cui abbiamo fatto degli incontri direttamente con i pazienti durante già la fase iniziale dello studio. E siamo partiti anche attraverso dei questionari strutturati. Ed eccolo il paziente numero uno. Si chiama Marco e da sette mesi sta provando il prototipo. Nella vita quotidiana di tutti i giorni, anche quando non sono in contatto con loro, vedere di riuscire a fare cose nuove. Magari sto facendo tutta altra cosa. Poi mi viene in mente di dire perché non posso provare a fare questo? Ed è davvero tanto quello che Marco riesce a fare. Aprire una finestra, apparecchiare la tavola. Azioni che sembrerebbero banali non per chi non ha una mano. Dal punto di vista tecnico il funzionamento è semplice. I sensori captano il segnale del muscolo e lo trasformano in movimento. Alla base un principio meccanico semplicissimo. Come potete vedere la mano risulta anche nelle sue configurazioni di chiusura piuttosto flessibile. Questa è una novità nel campo della protesica. Il tutto viene realizzato attraverso un unico motore e un cavo che viene avvolto da questo motore. Quindi mantiene una semplicità grandissima. Una volta arrivate al prodotto finale potrebbero essere 2600 l'anno i pazienti ad utilizzare questa nuova protesi. Un numero enorme con un risparmio importante. La protesi robotica costa infatti due terzi in meno rispetto a quella tradizionale. Questo permetterebbe addirittura di inserirla nei livelli essenziali di assistenza. Questo almeno nelle intenzioni del Ministero della Salute.